Sono maglie di squadra insomma, l'indosso io perché l'ho tagliato per primo il traguardo ma l'hanno vinta tutti, anche loro. Speriamo di far bene a questa traggiornia aerobica, speriamo di tenerla il più possibile insomma. È stata una cronometra squadra corta per le nostre caratteristiche perché insomma sono 13 km quindi siamo battiti tutte e siamo arrivati ancora più forti.